Un nuovo spazio dedicato al fai-da-te a ridosso del centro cittadino, taglio del nastro a Forlì per il Brico Center, 1600 metri quadri per chi ama cementarsi nelle piccole manutenzioni della casa e non solo. È un negozio da una metratura di 1600 metri quadri con 15 dipendenti all'inizio della partenza. Quindi cosa vi aspettate da questa nuova inaugurazione? Sicuramente diffondere la nostra cultura, la cultura del fare insieme, quindi il nostro intento è proprio quello di coinvolgere la comunità forlivese in tutte le attività che ci sono da fare nel quotidiano per mantenere e migliorare il proprio abitato dove si vive ogni giorno. Questo è il quarto negozio nel 2017 e Forlì è un bacino magnifico per noi perché c'è poca concorrenza e c'è tanta voglia di fare. Direi che forse gli anni più complicati dalle crisi sono passati, si susseguono aperture e nuove imprese che attichiscono anche nel nostro territorio. Credo che questa è un'esperienza che solo pochi mesi fa si è proposta nel territorio, è stata sostenuta per quello che ricordava poi le autorizzazioni e la possibilità di aprire il nuovo negozio. Direi che in tempi davvero rapidi ha consentito di aprire proprio prima delle festività.